Nel cuore della città di Biella, vicino a tutti i principali servizi, a pochi passi dalla via pedonale, proponiamo in vendita panoramico appartamento di 110 metri quadrati, sito al terzo piano di 6 pieni totali, in palazzina con portineria part-time. L'alloggio gode di uno splendido affaccio sui giardini alpini d'Italia ed è composto da cucina, sala da pranzo, due camere da letto e oltre ad una terza cameretta al momento adibita a cabina armadio e bagno. Tutti gli ambienti sono disimpegnati da un grande corridoio attrezzato di pratici armadi a muro. Grazie alla presenza dei balconi con doppio affaccio, ampia abbastanza per creare una zona relax con tavolino e sedie, l'appartamento risulta luminosissimo. Grazie a tutti. Libero dal 1 dicembre 2023. Per tutte le informazioni chiama o scrivi una mail, siamo sempre a tua disposizione.